Il più grande parco divertimenti della Germania riceve candidature per i settori della ristorazione, service, cucina e housekeeping. Per inviare la propria candidatura basterà rivolgersi al responsabile organizzativo per la Germania, Gianmarco De Prospo, al numero 379-1054-112. Vuoi una colazione ricca e gustosa? Allora corri al bar La Movida Gran Caffè. Troverai un'ampia scelta di dolci artigianali, anche senza glutine. La vera sfogliatella napoletana. In più, potrai gustare ottimi aperitivi da condividere con gli amici. 2 dicembre 2021, ben ritrovati per una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano. Partiamo dalla politica. Noi di centro, il partito pronto a confetere nelle prossime elezioni. Verrà presentato a Roma il prossimo 4 dicembre, alle ore 10, presso il Teatro Brancaccio. Il partito Noi di centro, la nuova formazione politica di Clemente Mastella. Il tutto nasce dall'idea dell'ex ministro della Giustizia di dare voce alle correnti centristi e moderate. Prende le mosse dal movimento Noi Campani, che ha ottenuto nelle precedenti tornate elettorali un grande consenso. Infine, a sua notante, le adesioni. Movo Melito relaziona gruppi consigliari favorevoli. Andrea Melito, consigliere delegato durante la seduta del Consiglio Comunale, ha affrontato e relazionato sul tema della realizzazione Movo in località Casone, a poche centinaia di metri dalla Statale 90 e dalla nascente stazione Irpinia. Un progetto rivoluzionario a vocazione agricola. Circa 15.000 le imprese coinvolte, con un'area vasta che comprende l'intera Irpinia. L'intero Sagno è parte del Foggiano e del Salernitano, che insiste su 12.000 metri quasi. I prodotti ortofrutticoli saranno stoccati e venduti, previsti 38 box. Progetto questo che ha trovato l'approvazione del consigliere Luparella, che ha parlato di rilancio con la realizzazione della stazione Irpinia. ed il PNRR. Ci spostiamo adesso sull'attualità. Vaccini 5-11 anni via libera dell'AIFA. Dal 13 dicembre in Italia si potrà iniziare ad immunizzare i bambini con la campagna di vaccinazione Covid dai 5 agli 11 anni di età. Dopo l'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via all'anticoronavirus Pfizer-BioNTech. Anche l'AIFA ha approvata l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino con dose ridotta ad un terzo del dosaggio autorizzato per adulti ed adolescenti. Vaccini alaia contro Asla di Avellino. La direzione generale Asla di Avellino dimostra approssimazione, disorganizzazione ed inadeguatezza, lasciando nel caos migliaia di cittadini che chiedono di poter ricevere la terza dose. Quanto si sta verificando in Irpinia è inaccettabile, quanto scrive il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Enzo Alaia in una missiva al governatore De Luca. È sconcertante, aggiunge Alaia, che l'Asla decida di chiudere più della metà degli hub vaccinali creando disagi a tutti i cittadini, specie i più anziani, costretti a lunghe attese al freddo. Sconcerta anche la sospensione delle vaccinazioni domiciliari. Nelle prossime ore, ha concluso Alaia, convocherò una seduta della Commissione Sanità ponendo all'ordine del giorno il caso Avellino. Grotta Minarda annullata fiera dell'8 dicembre. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Grotta Minarda ha annullato l'appuntamento dell'8 dicembre con la fiera città di Grotta Minarda, evento dedicato allo shopping prenatalizio, il protrazzi dello stato di emergenza sanitaria e le norme relative all'impiego della certificazione verde Covid-19 hanno portato inevitabilmente a tale decisione. Se le condizioni sanitarie dovessero consentirlo, sarà valutata la possibilità di tenere la fiera in via eccezionale il 7 marzo. In ultimo, lo sport Virtus Basket Ariano Irpino finalmente si torna in campo. Dopo più di un mese, le ragazze di Coccio Iovini sono pronte per tornare a giocare nel campionato di Serie B. Le leonese saranno di scena sul campo di Catanzaro per la nona giornata di andata con palla a due in programma per le ore 18 di sabato 4 dicembre. Moretti e compagnie hanno totalizzato tre vittorie sulle quattro partite disputate fino ad ora. Anche per oggi è tutto, grazie come sempre per l'attenzione e appuntamento alla prossima edizione.